Buongiorno e buon fine settimana, siamo qui per la nostra consueta rassegna stampa del mattino, il nostro classico giro dei quotidiani, delle prime pagine, per scoprire insieme cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo sabato 27 maggio. Andiamo a vedere i temi caldi di questa giornata, partiamo subito, lo facciamo con il quotidiano, la Sicilia si parla di politico, meglio di elezioni amministrative, in Sicilia si vota domani e lunedì, il titolo in questo caso è Piazzate e si riferisce al giro di big della politica in questi giorni in Sicilia appunto per la campagna elettorale e per spingere il rispettivo candidato a sindaco. Chiusura col botto per il centrodestra a Catania, tutti i leader si ritrovano in piazza con Trantino, comizio in musica invece per Caserta e il centrosinistra, Conte e Schlein virtualmente insieme a Siracusa. A proposito di politica parla Silvio Berlusconi, Sicilia dice sempre generosa, il ponte stavolta non ci fermeranno. Problemi invece per Papa Francesco costretto a rinviare le udienze alla febbre e solo stanchezza, dunque non dovrebbe essere nulla di grave per il pontefice. In taglio laterale, cronaca Favara cade dallo scooter e sbatte contro un palo, tredicenne muore sul colpo e poi una rivelazione shock da parte dell'ex ministro Mannino, Riina e Provenzano nell'83 vigilarono sul congresso della DC. Economia, giovani under 30 che non studiano e non lavorano Italia record nell'Unione Europea record, tutt'altro che invidiabile. Sentenza sul Tar per gli orsi JJ4 e MJ5, saranno salvi, non saranno abbattuti, ma adesso però si cerca per loro una ricollocazione. Spettacolo dal 9 luglio al 3 agosto torna Noto Musica con tanti ospiti internazionali e gli omaggi a Lucio Dalla e Maria Callas. Catania invece protesta dei vigili del fuoco che si incatenano davanti alla prefettura, lamentano carenza di mezzi e personale. Sempre a Catania sfonda la porta della nonna perché voleva i soldi, è stato poi arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A Cicatena, crack della DACA, pene con panteggiamento, a Taormina invece il teatro antico riapre ai disabili. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, ci spostiamo adesso sul giornale di Sicilia. In primo piano c'è l'AMAP, ovvero la società che gestisce il servizio idrico a Palermo e in provincia. L'AMAP è a secco e scatta, vedete, l'SOS stipendi. Il maxi sequestro da 20 milioni congela tutte le spese dell'azienda Acquedotto, a rischio pure utenze e forniture. Appello al prefetto per scongiurare la paralisi del servizio idrico. L'accusa, omissioni e silenzi per avere quei soldi. Ricorderete appunto questa inchiesta sull'AMAP, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è un maxi sequestro della Guardia di Finanza da 20 milioni di euro. Il ruolo dell'attuale amministratore di Martino Poltrona Immune dallo Spoil System, dunque questi altri argomenti che riguardano questa notizia molto importante. Monito della Presidente Mattarella, troppi decreti stravolti dagli emendamenti. E poi ampio spazio, vedete, al calcio in foto l'amministratore delegato del Palermo, Gardini e il tecnico Corini, Gardini che dà la carica al club e promette ai tifosi faremo una squadra per la Serie A. Cronaca statale per Agrigento, schianto tra auto e furgone, morta una donna di 87 anni, a Capogallo invece anziana uccisa da un masso, imputati, tutti assolti. Andiamo in taglio alto, si parla di Papa Francesco, è stanco alla febbre, stop dunque alle udienze. E poi alluvione in Emilia Romagna, Fonderlein apre all'uso di 6 miliardi del PNRR. Lasciamo anche il giornale di Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione palermitana, del quotidiano La Repubblica parla, Maria Falcone dopo le polemiche degli ultimi giorni, la verità di Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia, non faccio passerelle, sto con le istituzioni come chiede la Costituzione, basta polemiche nel nome di Giovanni. E poi le accuse ricevute dalla sua fondazione, i finanziamenti, lavoriamo per l'intera comunità, dice Maria Falcone, non ho chiesto io di bloccare il corteo del 23 maggio, denunce dei ragazzi sugli scontri. Insomma, continua a far discutere quanto avvenuto il 23 maggio in occasione della commemorazione, il ricordo delle vittime della strage di Capaci, questi scontri avvenuti tra manifestanti di un corteo forse, non autorizzato forse sì, e le forze dell'ordine. Altre notizie in primo piano, uccisero il marito e padre che li terrorizzava, affidati ai servizi sociali, ricominciamo a vivere. E poi lo scandalo AMAP, allarme conti, caccia a 20 milioni, l'azienda intanto sigilla i contatori. Calcio, la D del Palermo Gardini promette, il prossimo anno il Palermo punterà alla Serie A, dunque una promessa importante per tutti i tifosi rosanero, che quest'anno speravano, almeno nei play-off. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, restiamo su Repubblica, ma l'edizione nazionale si parla di, tra le altre cose, di PNRR, banche in soccorso, gli istituti di credito pronti a sostenere le imprese per superare i ritardi, la Corte dei Conti speso un sesto dei fondi europei, in quattro mesi investiti soltanto 1,1 miliardi, ambiente e scuola quasi a zero, la sanità all'1%, il Fondo Monetario Internazionale dice è a rischio la ripresa. Alluvione, bozza del DL, manager commissario e controllo alla Premier. Da Repubblica ci spostiamo adesso sul Corriere della Sera, si parla invece della guerra in Ucraina, prove di trattativa, proposta dell'inviato di Xi Jinping, emissione del Vaticano, ma purtroppo i raid continuano. Pechino tregua se Putin mantiene le aree conquistate, gelo di Kiev e alleati e Mosca apre a Zuppi. E poi l'alluvione, ancora rischi importanti per i cittadini, soprattutto di Conselice, scatta l'evacuazione, grave rischio di contagi, fondi europei per 6 miliardi, il rischio sanitario è grave e per questo Conselice invasa da acqua putrida e maleodorante viene evacuata. Davvero una situazione molto complicata, vedete anche questa foto che parla decisamente da sola. Il quotidiano La Stampa apre invece con questo argomento, tasse e pensioni, promesse impossibili, anche il Fondo Monetario Internazionale boccia le riforme, stretta sulla previdenza, flat tax irrealizzabile e va ridotto il debito. Nuovo stop dopo Unione Europea e Banca Italia, la Premier alle imprese, voglio rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme, questa ad esempio è la prima pagina del quotidiano, il giornale Lo Scudo della Meloni contro nuove tasse, si parla di influenze straniere. Il Fondo Monetario Internazionale chiede di alzare ancora le imposte, ma il Governo dice no, vanno abbassate. Eredità grillina, abbiamo il record di inattivi. E a proposito di PNRR, la Meloni blinda il PNRR, una priorità assoluta, e poi il coraggio degli alluvionati ti imbota, uno slogan già diventato universale. La politica domani e dopo domani si vota in Sicilia per le amministrative, la centrodestra, la sfida comunale, Berlusconi migliora così, ho ripreso Forza Italia, in questa foto invece vedete appunto i leader della centrodestra, ieri a Catania a sostegno del candidato sindaco Trantino. Tutto il mondo è al lavoro e la pace resta un rebus, conflitto in Ucraina e il ruolo di Pechino. Si comincia insomma a parlare di trattative, ma siamo ancora in una fase di stallo e come abbiamo letto in precedenza, i raid in Ucraina continuano. Occhio invece a questa notizia con Elon Musk che rilancia la sperimentazione chip nel cervello per farci leggere nel pensiero. Chissà se sarà veramente così. Dalla giornale alla Fatto Quotidiano che invece rifila una precisa stoccata a Bonaccini che fa un'altra alluvione di cemento. Emilia Romagna, nuova autostrada, raccordi e tangenziali. Questo il piano trasporti, tutto asfalto è zero, mobilità sostenibile, più 69,9% di crescita per auto e moto, ma soltanto più 0,86% per treni e autobus. Andiamo avanti, Lasciamo anche il Fatto Quotidiano, ci spostiamo adesso sul Quotidiano Il Tempo, governo al lavoro, si legge in prima pagina, Meloni zittisce i gufi, Fondo Monetario critica l'Italia, accelerare il PNRR, meno debiti e attenzione alla riforma fiscale. Il Premier risponde, siamo una nazione seria, ora lotta al nero e meno tasse. Sul deficit troppo alto interviene Giorgetti, aumentato per shock esterni. E ancora l'addio di annunziata alla RAI, lo abbiamo visto in questi giorni, Fiorello e l'addio di annunziata alla gente, non frega niente. Queste appunto le parole di Fiorello e poi 6 miliardi per le zone a rischio, si parla chiaramente delle zone alluvionate, Fonderline stanzia fondi europei destinati a prevenire il dissesto idrogeologico, dunque non soltanto per le zone, in queste case colpite recentemente dall'alluvione, ma anche per altre zone italiane che sono a rischio. L'obiettivo è quello appunto di prevenire in questo caso. Siamo sul quotidiano La Nazione, qui si parla appunto di Emilia Romagna, supercommissario per la ricostruzione. Allo studio un decreto che individua i poteri e le funzioni di chi dovrà gestire i miliardi per far ripartire le zone colpite dalle calamità naturali. Giorgia Meloni, l'Emilia Romagna e una locomotiva, se si ferma, dice la Premier, rischia il paese. Emergenza sanitaria, case evacuate e ressa per le vaccinazioni. Vasco Rossi, noi siamo ancora qua, intervista a Vasco, alluvionati, a Rimini, canto per voi, ieri come oggi, quando tutto va a rotoli, tocca ai giovani. Queste le parole di Vasco Rossi, del grande artista. Il quotidiano Libero apre invece con questo argomento. L'uomo di Prodi si dimette, sinistra colta con le mani nel sacco. Levi lascia l'incarico alla fiera di Francoforte dopo lo scoop di Libero sull'appalto alla società belga in cui lavora il figlio. Emergenza, sbarchi in primo piano, tetto massimo per i migranti. Questa la promessa dell'Unione Europea, ma non illudiamoci. Mentre, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, rischio tetano in Emilia-Romagna, ma purtroppo ci sono pochi vaccini. Occhio invece a questa immagine, le violenze contro gli agenti che non indignano i DEM, titola in questo caso Libero, in riferimento anche negli ultimi giorni ai tanti fatti avvenuti di aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine. Ed ora lo sport. Anche oggi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che stamane propone in prima pagina un'interessante intervista al presidente Mattarella, che è uno sportivo, un appassionato di sport. Il mio sport, il mio giro, dice Mattarella. Parla il presidente della Repubblica. Giocavo a tennis, tifavo per Bartali, amo la palla a volo e domani premierà la maglia rosa a Roma, ovvero il vincitore del Giro d'Italia. Sarà un'estate molto intensa per Juve e Milan, che sono, secondo la Gazzetta, tutte da rifare. Da Di Maria e Rabiot a Orighi e Rebic, la sfida degli addi di Milan e Juve, che domani si affronteranno in campionato allo Stadium. Il Corriere dello Sport si occupa anche di Juve, secondi per Max. Allegri vuole chiudere con due vittorie per la classifica virtuale e per l'Europa. Dunque chiudere questa stagione con orgoglio, nonostante le mille difficoltà e la penalizzazione, l'ultima di dieci punti. Il futuro del Napoli pronto. Luis, vieni a Napoli. De Laurentiis chiama direttamente l'allenatore, ovvero Luis Enrique, per anticipare il Paris Saint-Germain, che è interessato all'ex commissario tecnico della Spagna. Dunque il Napoli, dopo ormai l'addio che pare certo di Spalletti, sembra intenzionato a puntare proprio su Luis Enrique. Chiudiamo con il quotidiano tutto sport. Sicuri che sia giustizia, si parla di Juve. Non soltanto gli Juventini, da destra e da sinistra, si censura la punizione sul campo per infrazioni amministrative. Tanti, insomma, si chiedono perché debba pagare la squadra, dunque i fatti del campo, per fatti avvenuti invece all'esterno, in questo caso nella dirigenza della Juve. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Noi intanto ci fermiamo qui, chiudiamo la rassegna stampa, ma a breve partiamo, come sempre, con le nostre edizioni di Spazio Notizia. Quindi anche oggi vi invitiamo a rimanere con noi. A più tardi.